C'è sicuramente una manovra azzardata all'origine dell'incidente avvenuto poco prima delle 11 sulla ex statale 98 Terlizzi Bitonto. Un anziano a bordo di un motocarro avrebbe tentato una pericolosa inversione a U senza accorgersi che nello stesso momento dalla parte opposta in direzione Bitonto proveniva un Opel Meriva con due persone a bordo. L'impatto è stato inevitabile, l'agricoltore di cui al momento non si conosce l'identità è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono gravi ma non corre pericolo di vita. Feriti lievi invece gli occupanti della Meriva. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia stradale di Ruvo di Puglia. Il traffico è rimasto bloccato fino a mezzogiorno e deviato per qualche chilometro. Gli agenti nelle prossime ore ascolteranno anche l'agricoltore per cercare di capire l'esatta dinamica dell'incidente.